Casa di Carità, Arti e Mestiere compie 100 anni, un compleanno sicuramente importante di formazione professionale al servizio davvero di tutto il territorio torinese e non soltanto. Presidente Attilio Bondone, 100 anni sono importanti perché c'è una storia che ha veramente plasmato questa città? Sì, diciamo di sì. L'attività di formazione professionale è nata negli anni 20 del secolo scorso, era già a quell'epoca proprio focalizzata al territorio e ai bisogni del territorio, questo è stato il filo conduttore di tutte le attività. Poi chiaramente negli anni 50, 60, 70, soprattutto in questa zona che era a quell'epoca caratterizzata da una forte presenza industriale, c'era la Fiat, la Mislaine, la Savigliano, una serie di piccole industrie, il rapporto col territorio è diventato così costante, così continuo, quasi impressionante. Io ricordo che alla fine degli anni 70 mandavamo i ragazzi a lavorare e avevamo 3-4 opzioni per ciascun allievo, erano i momenti veramente belli. Poi ovviamente ci sono stati anche i periodi di crisi e adesso con rinnovata speranza partiamo per un nuovo secolo. E come trovi i ragazzi? I ragazzi sono cambiati moltissimo, però se si riesce a fare delle proposizioni che sono per loro interessanti, quei ragazzi ci stanno e riusciamo a fare tutto. Invece come trova Torino? Torino è diversa, è cambiata. Torino è una città che sta ripensando se stessa. Quello che mi chiedo è quanto questo ripensamento è approfondito, quanto si riesce davvero a ricostruire una vocazione autentica di imprenditorialità, di voglia di esserci, di contare sul territorio nazionale. Infine la Fondazione Casa di Caetà Arti e Misteri nasce nel mondo cattolico dimostrando già allora appunto il saper guardare lontano. Può continuare anche questo con questa stessa forma mentale, questo stesso atteggiamento? La nostra mission è formare nuove generazioni, nuove generazioni vuol dire guardare il futuro, certamente mai al passato. Noi non rimpiangiamo nulla di quello che è stato, lo ricordiamo, lo ricordiamo con particolare attenzione, ma certamente dobbiamo essere proiettati verso il futuro. In una città dove i grandi santi sociali hanno dato un'impronta che è stata significativa per tutta Italia, forse per tutto il mondo. Hanno rappresentato moltissimo, sono la base della dottrina sociale della Chiesa insomma e anche in questo la consapevolezza nostra c'è sempre stata, i contributi alla pastorale sociale si danno e si riceve molto dall'insegnamento della Chiesa. Riccardo Ghidele è un consigliere di amministrazione, abbiamo parlato quindi del passato, di una storia importante, di un mondo che è cambiato, il mondo dei giovani, il mondo del lavoro appunto, il mercato del lavoro. E allora quali sono gli obiettivi futuri per una scuola, un'istituzione che ha così tanti anni, una storia così importante ma che vuole guardare il futuro con coraggio? La scuola professionale diventa uno dei nodi fondamentali, le sue attività riguardanti le accademi, le attività che sboccano in imprese sociali sono uno dei nodi fondamentali del futuro dell'occupazione in questo paese. C'è un'importantissima necessità di creare figure che sotto il profilo artigianale, sotto il profilo esecutivo e anche sotto il profilo professionale, quindi con apertura allo scommettere su se stessi nell'attività professionale, dia al paese competenze che sono una delle richieste più importanti del mercato del lavoro oggi. Quindi noi dobbiamo puntare a uno screening ulteriore, nuovo e migliorativo di quello che noi offriamo ai giovani perché possano essere adeguati alla domanda del lavoro e alle esigenze dello sviluppo del nostro paese. Quali sono le aree in cui sarà necessario lavorare di più in futuro? C'è sicuramente una storia in cui noi siamo eccellenza come casa di carità, arte e mestieri che è quella del mondo della mental meccanica e di tutto quello che sta intorno. Però ci sono mondi nuovi, pensiamo ad esempio a tutto quello che c'è di digitale intorno alla rivoluzione che noi con impresa 4.0 ma in generale nel mondo della digitalizzazione delle attività e dei servizi è necessario adeguare le attività anche del mondo esecutivo e quindi tutto quello che è formazione professionale sul digitale deve trovarci adeguati ma anche sui servizi. Quindi stiamo riorganizzando rispetto a questi tre filoni le attività ma sarà poi il mandato del nuovo consiglio con il presidente che sarà nominato e col direttore generale che sarà nominato a dare poi un indirizzo specifico alla declinazione. Stiamo però orientandoci a essere assolutamente attuali. Ci sono anche nuove tecniche di insegnamento? Beh, la digitalizzazione ad esempio è tutto quello che aiuta a questo e fondamentale. Però sappiamo benissimo che in questo momento l'efficacia della parte professionale parte dall'esecuzione e quindi l'esperienza scuola-lavoro, l'esperienza in azienda diventa fondamentale per poter avere un percorso che avvicini il più possibile poi all'occupazione. Ecco appunto l'esperienza in azienda voi l'avete sempre garantita, no? Da anni. Beh, Casa di Carità è leader in questo. Penso che noi abbiamo un esempio di anni dalla fondazione ad oggi proprio del contesto migliore nel quale noi rispetto alla formazione abbiamo dato declinazione di formazione sull'inazienda. Dobbiamo percorrere e implementare sempre di più questo, magari con accordi anche che ci aiutino verso il mondo che è il tessuto produttivo. Franco Bissaro è consigliere di amministrazione di Casa di Carità Arti e Mestieri. Cento anni di storia quindi abbiamo sentito, abbiamo sentito dello sviluppo delle tecnologie della necessità di cambiamento davanti a un mondo del lavoro che è completamente cambiato ma al tempo stesso c'è un ruolo sociale che la formazione, la formazione professionale in modo particolare ha sempre avuto nella storia e che continua a vivere pur con tutti questi cambiamenti in atto. Certo che continua a vivere. E poi in questi giorni c'è stata la lettera del Papa sulla povertà educativa. Ecco io credo che la formazione professionale persegua da sempre gli obiettivi indicati da Papa Francesco. L'attenzione alle categorie più deboli dal punto di vista delle opportunità educative e formative, l'attenzione alle persone con disabilità e la marginalità. Noi apparteniamo a quella categoria che ritiene che il lavoro sia la condizione di normalità di vita per tutti, per tutte le persone, brave, meno brave, disabili, non disabili, marginate. E la formazione professionale ha come obiettivo principale favorire la formazione per un ingresso nel sistema del lavoro, nel cosiddetto mondo del lavoro, il più aperto a tutti. E negli ultimi tempi la formazione si è impegnata anche nell'ambito dei servizi per l'impiego, proprio per non mancare a questo compito al termine dei percorsi formativi. Questo è secondo me l'interpretazione autentica delle volontà di Papa Francesco. D'altra parte il lavoro ha un ruolo fondamentale nella pastorale sociale della Chiesa, ma un ruolo fondamentale anche per la nostra Costituzione. In questo caso stiamo andando veramente di pari passo. Certo, ma tutti gli enti che appartengono, che gestiscono formazione professionale, che appartengono al mondo che rappresento anch'io all'interno del Consiglio di Amministrazione e di Carità, fanno riferimento alla dottrina sociale della Chiesa. E' questo l'elemento che ci lega. E' questo che consente, per esempio, a Casa di Carità, di aver individuato per il proprio Consiglio di Amministrazione due persone che vengono da un altro ente, che ha una dimensione nazionale e che può garantire sinergie. Noi siamo pochi. Se non ci stringiamo tra di noi, non andiamo da nessuna parte. Però l'orizzonte mi sembra positivo, comunque di grande impegno, di grande lavoro ancora da fare, ma diciamo di messe, come diceva qualcuno, di più importante ce n'è molta. Ma sì, tengo presente che queste istituzioni sono più forti della magari inadeguatezza delle persone che per un certo periodo le governa. E sopravvivono a noi. Infatti Casa di Carità deve guardare ai cento anni passati, ma ai prossimi cento. Grazie.